Sara Barton, inglese, crea gli abiti per Michelle Obama, Kate Blanchett, Lady Gaga e Gwyneth e lei la stilista incaricata di disegnare l'abito da sposa che Kate Middleton indossa per le nozze con il principe William, celebrate nell'abbazia di Westminster il 29 aprile 2011. È un abito in stile vittoriano con applicazioni in pizzo, la vita stretta e i fianchi imbottiti, ma con un taglio moderno, realizzato in tessuto leggerissimo. Grazie a tutti.